Cos'è che non ti piace dell'Italia e che invece ti piace di qua? Vabbè, posso dire alla Casa Politica? Io me ne sono andato perché non sopportavo più Berlusconi, lo posso dire. Ero stufo di prendere un giornale, vedere la sua faccia, aprire il telegiornale. Sinceramente ero stufo di sentirmi rappresentato da... E vabbè, adesso sei rappresentato da Renzi, cioè... Da Renzi, sì, forse, è anche peggio. Per quello dico, basta, io non voglio più essere rappresentato... Ah, io non li faccio più questi video con quei maschi che non si possono fare, basta, tirate fuori un po' la donna che è in voi.